weee non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiodarone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xiodar e finalmente ho trovato due secondi per fare uno di quei tutorial che mi state chiedendo in tantissimi potrebbe succedere che abbiate bisogno di disabilitare o di abilitare l'autenticazione a due fattori il 2 fa in poche parole quindi vi spiego nella maniera più chiara possibile come e dove dover andare per farlo la prima cosa da fare ovviamente è aprire una nostra finestra del browser quindi google classico ok da google digitiamo epic games quindi cerchiamo di andare nella pagina principale di epi games la home page come vedete nella parte in alto c'è il vostro account in questo caso xiodar youtube è il mio voi avrete il vostro clicchiamo nella prima voce del menu a tendina che si chiama che dice proprio account come vedete siamo già nella pagina personale principale dell'account dove si vede il nome visualizzato il nome la mail con cui vi siete registrati e tante altre informazioni personali da qua muovendovi con il mouse sul menu a sinistra andiamo sulla sezione password e sicurezza qua potremo qualora lo desiderassimo modificare la password per dirvi ma andando un pochettino più giù ecco la voce relativa all'autenticazione a due fattori si può fare in due modi con l'app authenticator come scritto qua oppure con l'autenticazione via mail che è quella che io vi consiglio ma non è l'unica anche perché alcuni di voi hanno problemi con la mail vi faccio vedere prima la quell'autenticazione via mail praticamente io qua ho disabilita autenticazione email perché ovviamente ce l'ho abilitata voi avrete abilita autenticazione via mail una volta che cliccate su questo tasto vi si apre una finestra dove vi dice è stato inviato un codice all'indirizzo mail con cui siete registrati quindi all'indirizzo mail presente qua ok quello che state vedendo una volta ricevuto quel codice andando nella vostra mail sempre dove eravate prima quindi dopo aver cliccato questo tasto inserirete il codice e da lì l'autenticazione è fatta quindi è semplicissima questa cosa ma per chi invece ha problemi con la mail c'è l'app authenticator che cos'è l'app authenticator sono delle applicazioni appunto che fanno quello che abbiamo appena visto con la mail solo senza mail ad esempio se noi clicchiamo qua vedete che c'è un link cliccabile e apriamo la scheda informativa che ci dice proprio epic games e scendiamo abbiamo quattro applicazioni gratuite ovviamente che possiamo scaricare e quindi utilizzare per fare l'autenticazione la google authenticator il last pass authenticator il microsoft authenticator e auti se avete android ovviamente google authenticator è quella che serve a voi se avete ma ios microsoft last pass sinceramente non lo conosco quindi ragazzi una volta abilitata o disabilitata la 2 fa potrete per dire fare i regali perché sapete che è obbligatorio ma per altri motivi per cui fosse necessario disabilitarla basta semplicemente che una volta che l'avete abilitata cliccate in questo bottone io spero di essere stato il più chiaro possibile se avete dei dubbi scriveteli qua sotto invito tutti i ragazzi che parteciperanno a questi commenti ad aiutarsi a vicenda in modo da tenere su youtube questo video esplicativo informativo per tutti quelli che ne avranno bisogno noi ci vediamo tra poco in live ciao